La firma sul secondo match di questo Mundialito a Porto Sant'Elpidio la mette con grande classe Davide Di Michele è riuscito veramente qualcosa che riesce quasi solo sull'erba stasera Davide. Beh sì diciamo che sono stato anche abbastanza fortunato però era la serata giusta c'erano tanti assenti e giustamente era una partita difficile però siamo riusciti tutti quanti insieme ad andare avanti in questa seconda partita una vittoria grazie a tutti quanti e poi c'è chi magari ha fatto qualcosina in più però poi la vittoria di tutti. Una doppietta e direi una trovata perché non avevate mai giocato insieme prima di ieri una trovata intesa con Bellardinelli un ragazzo di grandi prospettive. Sicuramente sta dimostrando già la prima partita per la prima volta di avere grandi toti tecniche sforbiciate rovesciate di tutto grande grande grinta grande cuore e poi è stato anche tra virgolette bravo a sfruttare una mia sponda e fare gol quindi è un giocatore che ci mette cuore un po' tutti e poi c'è qualcuno che risalta un po' di più però è la vittoria di tutti oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.